Buon pomeriggio, ben trovati al consueto appuntamento pomeridiano con la cultura in città, vediamo cosa ci riserva la serata, cominciamo dal secondo dei due appuntamenti che vedono Maurizio Crozza protagonista al Group Village, ieri sera la prima serata, questa sera si raddoppia a partire dalle ore 21, rivoli di sera, continua la rassegna dedicata ai film della stagione passata, questa sera alle ore 22 in programma Pirati dei Caraibi 4, oltre ai confini del mare, regia di Rob Marshall con Johnny Depp e Penelope Cruz, finiamo con un concerto al Parco della Certosa Reale per Colonia Sonora, torna una delle band italiane più famose degli anni passati, si tratta dei Modena City Ramblers che saranno sul palco a partire dalle 22 circa. Bene per quest'oggi è tutto, ringrazio Paolo Mosso, ci vediamo lunedì alla solita ora, io vi auguro una buona serata e un buon fine settimana.